oh collega e basta farsi verbale ma lo so scucciar troppo due colleghi vanno a fare un blitz a un certo punto un dice all'altro ehi ehi stai attento a quel cemento e l'alfa scusa perché perché potrebbe essere armato ma io questa già la so c'è mia moglie me ne racconta una al giorno si lo so tua moglie bravissima anzi proprio ieri me ne ha raccontato un'altra tua moglie si guarda ma mi ha raccontato una parzelletta bellissima fortissima pensi che ci siamo fatti un sacco delle salte tanto ci siamo messi a ridire io e tua moglie che a un certo punto siamo caduti giù dal letto come giocatore? come giocatore? no no volevo dire che io mo mi sono ricordato che sono di si fa tu le forconi... non è un video no volevo dire dire che io non volevo dire che io signo che io non volevo dire che io non volevo dire che io non volevo dire i Immagrapp黃